ebbene sì siamo al 31 di dicembre quest'anno purtroppo il capodanno bisognerà festeggiarlo in diretta streaming come potete vedere fra poco adesso qui con noi ci sarà un collegamento con un signore dal garage vediamo se riesco a far andare la linea un attimo si si te vedo te vedo si che te vedo che te vedo secondo me ci sono dei problemi di audio vediamo di riuscirci a collegarci con un si si te vedo tutto bene? ok ok andiamo con un altro collegamento dai vai si qua si sono il collegamento da Roma mi tutto pronto anche qua spero che mi vedi bene dai dai ok ok anche te proviamo l'ultimo collegamento si mi sento bene dai dai tutti pronti allora? dai dai che manca poco dalla provincia di Vieste dai dai manca poco manca poco l'ultimo era della provincia di Vieste e allora prepariamoci qualcosa da Fischer dai noi diciamo contro la mano dieci nove due cinque quattro tre tre due uno A tutti. Purtro에 endolver. A tutti. A tutti. A tutti. A tutti. A tutti. C'è la piccola del futuro. Cattivari. Ciao ciao.